Ben ritrovati a tutti su Meteo Giuliaci da Andrea Raggini. Il fine settimana dei sabato 19 e domenica 20 marzo vedrà ancora una circolazione depressionaria che insisterà sul centro-sud Italia. In particolar modo la giornata di sabato vedrà schiarite e il ritorno del sole solamente sul nord-est mentre sul resto della nostra penisola la nuvolosità risulterà diffusa. Sul nord-ovest con qualche fiocco di neve sulle alpi di confine mentre al centro-sud avremo precipitazioni per lo più deboli tra Marche, Abruzzo, zone interne del Lazio con neve oltre 1000-1200 metri ma al tempo più incisivo sulle isole con precipitazioni diffuse sulla Sicilia e sulla Sardegna calo della vuota neve per l'arrivo di aria più fredda in Sardegna nevicate oltre 1400-1500 metri in Sicilia addirittura i fiocchi bianchi potrebbero scendere anche al di sotto di 1200 metri qualche goccia di pioggia anche tra Basilicata e zone interne della Campania ventilazione tesa da est-nord-est mari che tenteranno a risultare mossi temperature in calo al centro-nord e sul versante adriatico temperature generalmente comprese tra 10 e 15 gradi nei valori massimi la giornata di domenica avrà il ritorno del sole su buona parte del centro-nord ancora addensamenti sull'estremo nord-ovest mentre sul centro-italia sole su buona parte di Marche, Umbria e Toscana addensamenti ancora una volta su Abruzzo, Molise, Lazio e soprattutto il sud Italia ancora una volta avremo precipitazioni sparse tra Calabria e soprattutto Sicilia e Sardegna ma con maggiori schiarite nevicate oltre 1000-1400 metri di vuota ventilazione ancora tesa, temperature in leggero calo per questo appuntamento è tutto i dettagli li trovate su www.metrogiuliaci.it da Andrea Raggini buon proseguimento